Allora, mi vedete in questo istante, ok? Per forza. Se fossero state false, ok? False, suona brutto. Se fossero state delle ciliegine finte, così è già un poco meglio, a quest'ora erano più o meno qui, sotto la clavicola, tipo. E ovunque mi metto, mi muovo, si vede che sono molto, molto ferme. Ma perché vi devo fare queste lezioni, io caso?